Il Natale è ormai alle porte e come ogni anno Carpenedolo si prepara alle festività con un momento davvero emozionante. Migliaia di luci e addobbi illumineranno un albero di ben 12 metri, così da far risplendere per tutto il periodo natalizio la voglia di stare assieme. Sì, è da qualche anno che abbiamo introdotto questa tradizione, è nata proprio il desiderio di portare un segno particolare all'inizio delle manifestazioni del periodo natalizio. Quindi volontari della Proloco e grazie anche alla società Vivai e i Gelsi di Mezzane, che sono degli amici che ci regalano questo albero, abbiamo introdotto questo appuntamento che è molto simpatico e soprattutto adesso l'albero che è alto 12 metri e con le luci sarà un segno che accompagnerà tutta la nostra cittadinanza per il periodo natalizio. Ci dà anche l'occasione di presentare le iniziative importanti di questo periodo, soprattutto la Fiera del Torrone e non solo perché ci saranno anche tanti appuntamenti durante il mese di dicembre. Per noi ormai è diventata questa tradizione importante perché possiamo appunto dare un segno alla popolazione, un segno luminoso che ormai è entrato nel cuore dei carpenedolesi e ce ne stanno dando atto di questo. e vogliamo che continui anche per il futuro. Meno tre, meno due, meno uno, via!